A Bedizzole due ore di battaglia, di ribaltamenti di fronte, di adrenalina. Finisce con una mezza maratona l'astinenza da pallavolo giocata per la promobol Sanitars Gussago. Il derby tutto bresciano con il green up Bedizzole Volley, valido per la prima giornata del campionato di B2 girone F1. Si assegna al quinto set, a completamento di una gara non sempre brillante dal punto di vista del gioco, ma certamente ricca di emozioni e vede le tigri bianco-rosse sotto per due volte nel punteggio. Brave però a rimontare e quindi ad aggiudicarsi la sfida e i primi due punti in classifica. Venendo alla cronaca del match, coach Johnny Taramelli si affida in regia all'esperienza di Izzo, quindi a Marinoni, Ferrari, Ducoli, Tomasi e Piantoni e Pecalli, mentre dall'altra parte della rete il sestetto proposto da coach Polito è composto da Penocchio, Deganello, Ferraro, Moricone, Popolini, Danesi e Tagliani. Quando il duo arbitrale Benigni e Gioia dal via alla contesa, gli scambi che si susseguono sul rettangolo di gara sono sostanzialmente retti all'equilibrio. Tra sé e le avversarie, la Promobol non riesce a mettere che qualche manciata di punti, così Bedizzole tallona, quindi aggancia sul 16-16, rilanciando un ultimo spicchio di set segnato sempre dall'equilibrio. Perché il primo periodo si assegni sono così necessari i vantaggi che premiano le padrone di casa per 27-26. Con il terreno da recuperare, la Promobol Sanitas Gussago spinge sull'acceleratore nella seconda frazione di gara e, trascinata da Ducoli, si porta sul 4-9. Poi, dopo aver concesso a Bedizzole di mettere qualche pallone a terra, rilancia sul 6-11 e ancora sul 10-17. Nel momento in cui la strada sembra spianata, però la squadra guidata da coach Polito si scuote e prova a recuperare, tanto da spingere mister Taramelli a chiamare il tempo. Tuttavia la mossa non sortisce gli effetti sperati. Così, con il fiato di Bedizzole sul collo, 23-24, il coach richiama ancora attorno a sé le sue atlete e al rientro di queste in campo, Marinoni chiude ogni discorso, firmando il 23-25. Con la gara tornata in parità, il terzo set, che vede le biancorosse inserite con basalari per Tomasi, comincia con errori e punti da una parte all'altra della rete. Ma dopo che i due sestetti girano sul 5-5, le padrone di casa prima si portano sul più 3, 10-7. Poi alzano la voce e vanno sul 12-8. Coach Taramelli con le sue sotto a 15-10 inserisce di nuovo Tomasi per basalari, ma la musica cambia poco e sul 18-11 le due atlete si danno nuovamente il cambio. C'è poco da fare, però Bedizzole corre e il set termina 25-12. Ancora una volta dunque le Tigri sono costrette a recuperare e sotto rete si presentano con Izzo, Ferrari, Marinoni, Ducoli, Piantoni, Pecalli e Gasparini. La portata del parziale fa sì che le due formazioni non si risparmino e si rendano anzi protagonisti di scambi davvero degni di nota, giocati nel segno dell'equilibrio. Due punti a firma di Izzo, 5-7. Provano a indirizzare il periodo, ma Bedizzole non concede vita facile e a quota 11 aggancia, così la Promoball, caricata da Coach Taramelli con il time-out, ricostruisce e imbastisce un nuovo vantaggio, 11-14. Il buon break consente di tenere la testa avanti, ma non di piegare le resistenze delle avversarie che anzi si mantengono a vista, fino a pareggiare 22-22 e a spingere ai vantaggi. Sul 25-25 la Sanitars Gussago esegue il doppio cambio basalari di giuglio per Izzo e Ducoli, quindi si guadagna la possibilità di decidere la sfida alla tie-break chiudendo 25-27. Confermando il sestetto di avvio quarto set, Izzo e compagnie piegano il punteggio della propria parte anche grazie al grandissimo muro della coppia Ferrari-Ducoli. Fanno spalla a spalla con Bedizzole fino al 5-5, quindi al cambio campo arrivano avanti 5-8. Il passo preso, grazie anche alla vera grinta Promoball, che sin qui si era vista poco, è quello giusto e il tabellone lo certifica con i punti che salgono fino all'8-15, che decreta la vittoria di set ed incontro. Ed ora alle voci del dopogara. I primi set sono stati altalenanti. Prova a restituire una fotografia del match coach Taramelli. Nel terzo invece, complice anche una paura sofferta più del dovuto, siamo andati molto male. Il ritrovato coraggio nel quarto parziale ci ha permesso poi di dominare l'atto decisivo della gara per conquistare il 3-2. Molto bene. Sono molto contenta, si complimenta con la squadra Capitanizzo, perché le mie compagne hanno reagito tutte molto bene nei momenti difficili e questo è importante per una squadra giovane come la nostra.